un croquet 32 centimetri ma può essere maia certo che può essere soprattutto se poi lo vai a farcire come vuoi tu io adesso l'ho fatto solo bigusto con mortadella burrata rucola questa qui invece rucola scaglia di parmigiano e prosciutto crudo di parma voglio su croquet va farà sci pazza ea finurumuna volete vedere come l'ho fatto andatevi a vedere il resto del video primo passaggio mettiamo a bollire le patate è normale quando vedete che con uno stuzzichino una forchetta riuscite a infizzare per bene nella patata vuol dire che la patata è pronta e la possiamo togliere il resto può farciare gli annulli adesso cotta le patate piatto poi schiacciapatate senza che le andate a pelare voglio mettetele qua dentro schiacciate quanto bella le patate belle pulite escono fuori qui sotto e quello che c'è là dentro naturalmente la buccia la togliete e rimettete altre patate fate questo e risparmete pure un altro paio di minuti di tempo schiacciato le patate quando sono ancora bollenti ma qua dovete dimostrare la vostra forza umana allora ci andiamo a mettere naturalmente sale quanto basta se voi adesso mi vedete mettere una bella quantità di sale non vi preoccupate non sono asciutto pazza ma è solamente perché sono 4 kg di patate e voglio io purtroppo venga a mano a pesare ci vuole il prezzemolo perché nel crocchè napoletano ci vuole per forza voglio una bella quantità di pecorino e parmigiano tutte e due insieme un poco di pepe e molto voglio molto voglio mani mani pulite e andate a mischiare il tutto voi lo potete fare tranquillamente con un mestolo una spatola di legno quello che volete voi ma io crocchè la gian di mano lo devo sentire tra le mani e comunque alla fine ho porto 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 alla fine l'ho utilizzato pure io questo voglio troppo bollente ma lo faccio riposare mezz'ora nel frigo così si indurisce ancora un po di più avete visto non ci ho messo nei uova all'interno e non ce lo metterò neanche all'esterno per la panatura ma vi faccio vedere che andiamo a fare venito con me allora come vi ho detto per impanare non utilizzo l'uovo perché di solito si fa prima farina uova e pane grattugiato ma con questo sistema qua i crocchè non si spaccheranno mai più allora acqua ok ci ho messo un po di acqua ma ci andiamo a mettere la farina all'interno e dobbiamo far uscire una specie di pastella tipo come quella che si utilizza per fare gli arancini siciliani ma vi faccio vedere deve risultare una pastella non troppo liscia e non troppo solida ma vi faccio vedere come deve risultare ad essere proprio come il latte ecco qua abbiamo portato il latte il latte il latte voglio un abbraccio al luco e il sole di notte voglio seguire a filo romulo allora guardate qui deve essere proprio veramente quasi come il latte vedete è una consistenza non troppo liquida ma neanche troppo dura vedete si riesce ad avere una specie quasi una specie di becciamelle ok ma adesso ci andiamo a tagliare il fior di latte o mozzarella ci prepariamo il pan grattato ci facciamo le forme dei crocchè e frio e arrivederci andiamoci a tagliare all'istarelle come abbiamo detto o fior di latte o mozzarella fate così vedete tanti che se mozzarella che non caccia manco un latte che se made in deutschland che andiamo e tagliate così vedete striscioline così ma andiamo a fare i crocchè allora le patate si sono leggermente raffreddata ma guardate amici che vado a fare vado a mettere un po di olio nelle mani tanto bello perché adesso andiamo a prendere una bella quantità di crocchè perché io mo sapete che le voglio purtroppo mangio fissa devo fare un crocchettone gigante ma lungo 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 quindi praticamente mo mi vado a prendere una bella quantità di patate che adesso vedete è bella modellabile ok adesso io che cosa faccio siccome adesso devo staccare il telefono perché sto da solo adesso io mi vado a prendere già questo pezzo bello grande ma ce ne vado a mettere un altro poco vicino vedete me lo vado a modellare ma dove me lo vado a modellare sul tagliere adesso ci vado a mettere sul tagliere un pochettino di olio me lo vado a modellare e me lo faccio lungo 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 eccoci qua allora mi sono unto un po il tagliere qua sopra ma guardate bene praticamente adesso io me lo vado un poco poco a modellare così vedete mi vado a pallisciare tra le mani guardate qui c'è la mia mano già è bella grande vedete praticamente sono quasi due mani miei ok vedete adesso io che cosa vado a fare di sfizioso adesso me lo sto modellando per bene cercando di chiudere tutti e due tutti i lati adesso io vado a premere un poco al centro vedete ma qua dovete avere solo un poco 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 di pazienza perché adesso io ci vado a mettere naturalmente la provola o il fior di latte quello che avete voi a casa tanto bello schiacciate un poco all'interno e adesso sempre con le mani unte di olio andate a chiudere vedete cercate di andare a chiudere per bene mi dispiace che non riesco a farvi vedere il video proprio in maniera perfetta vedete e adesso vi andate a rollare un poco poco in modo tale che praticamente vi viene la forma praticamente perfetta di un croquet super gigante vedete vedete qui adesso me lo vado a trasferire in una placca e andiamo in frigorifero eccoci qua io adesso di questi me ne sono fatti quattro ok adesso andiamo in frigorifero giusto un'oretta due ore giusto il tempo che ci andiamo a preparare quello che ci serve per impanare e poi dopo ne andiamo anche a friggere però adesso facciamoli raffreddare in frigorifero allora passate tutte queste ore ma voglio onde evitare perché adesso lo andiamo a mettere prima nella pastella e poi nel pane grattugiato onde evitare che si rompano pigliatevi uno pennellino ok voi lo potete fare anche con le mani però prendete un bel pennellino e facete tipo come giotto e andate a fare una bella una bella ma è passata pure nella moto guardate un po' andate va a fare una bella pennellata su questi croquet giganti naturalmente non solo il lato di sopra ma anche il lato di sotto quindi fatele proprio per bene con questa con questa pastella di acqua e farina perché dopo di questo ci andiamo a mettere il pane grattugiato fatto ciò adesso ve lo passate tanto bene in tuo pane grattugiato tanto bello fate sempre però attenzione naturalmente a non romperlo ok poi prendete naturalmente però mettete da parte questo vermone guardate che quant'è è una bestia gigantesca lo mettete da parte perché fra poco lo andremo a friggere e sapete come bene a finora allora i 4 3 mors stanno qua e ora siamo ancora pure questi qua e adesso è arrivato il momento epico dall'altra parte mia mamma sta lasciata nell'olio 180 gradi ma preghiamo che non si scassi se non è una figura proprio di niente anzi toglietemi il like alla faccia siete pronti? siete pronti? e 1 e 2 e 3 va andiamo a cuocere la cosa che io adesso vi consiglio è di prendere un bel cucchiaio 8 e di far passare l'olio bollente anche sulla parte della superficie poi quando lo andiamo lo andiamo ad alzare naturalmente con due palette che dio ce la mandi pure poi fate così vedete? fateglielo passare sopra l'olio fin quando poi non diventa biondo ed eccolo qua guardate qua doratura perfetta guardate qua guardate mamma mia ma non avete mai visto una crocca ai 25 cm così grosse? ho sudato un po' devo dire la verità ma ne vale la pena guardate qua quanto è grande mamma mia e ora ce l'ho mai solo assaggiato naturalmente non solo i grandi anche quelli lì normali guardate qui non si spaccano per niente ma cosa ne spaccano? guardate qua che doratura perfetta vedete? croquet perfetto questo croquet è bellissimo mi vado a mangiare così però vi faccio vedere un'idea di quello che vorrei fare nel mio locale dei sogni portare questo croquet gigante ok? tagliarlo naturalmente quando è ancora bollente adesso per me si è raffreddato un po' aperto così e adesso divertirmi a fare tutto quello che io ho sempre desiderato magari portare questo croquet gigante con un pochettino di rucola al centro vedete? vedete quanto è bello? ditemi se vi piace poi magari l'idea ci andiamo a mettere giusto un pizzichino di sale sopra un filo d'olio poi ci andiamo a mettere poi ognuno insomma la vuole fare come vuole noi ci vado a mettere giusto una metà con un po' di mortadella vedete? tanto bene facciamo a mettere una bella burrata a coppa uno facciamo mortadella e burrata dall'altra parte prosciutto crudo sempre tanto bello i crocchettoni XXL di Luigi Scotti vedete? scaglie di grana e obbligo vedete? il crocchettone da 32 cm bigusto poi si potrebbe fare anche a 4 gusti questo se un giorno mi apri il locale ve lo venite a mangiare a casa via e lo voglio mo questo qua non me lo vado ad assaggiare perché stasera ho ospiti io mi vado a mangiare il crocchè normale che è bollente guardate qua guardate qua oh oh come cosa? come cosa? come scotta? andiamo ad assaggiare questo crocchè voglio la cena è servita crocchettone gigante oppure il crocchè normale a voi la scelta però questo qua da 32 cm da farcire come voi volete è proprio fino allo mondo un abbraccio a tutti e fatemi sapere se l'idea vi è piaciuta ciao a voi e fatemi sapere naturalmente se l'avete fatta anche voi ciao